Ciao a tutti da Sotta! Ciao a tutti da Nicola! In questo video vi vogliamo augurare una buona Pasqua. Ecco, è importantissimo, tutti gli anni lo facciamo e anche quest'anno lo vogliamo fare. È una festa importante, è importantissima, perché inizia anche la primavera, quindi è bellissima, mi piace tanto! Esatto, qualsiasi dia sia la condizione atmosferica, perché poi lo sappiamo che quando è Pasqua, Pasquetta, piove! Ma va bene, quest'anno poi è un anno un po' particolare, le istruzioni non ci fanno uscire, quindi stiamo a casa con i nostri amici, con i nostri cani e ci accrociamo, no, attento, accrocio che mi fa schifo! Dai! Bene, ma c'è Cesare che voleva dire qualche cosa! Ok, allora intanto io ti saluto e gli auguro buona Pasqua, mi raccomando! Che vuoi dire? Iscrivetevi al canale! Ah, ecco, questo è importante, seguitesi, seguiti, guardate tutti i nostri canali, mi raccomando! Di sotto ci saluta! Ciao a tutti! Cesare, ecco che! Senti, dicevi che volevi fare per Pasqua una sorpresa alla ragazza tua? Ah sì, è sguitlana con la rompiscatole! Come rompiscatole? Eh, ho capito, Nico, eh, tutti i giorni, gelosissima, gelosissima! Ho capito, ma se vede che gli dai motivo! Oh, cattica o lì tu, eh! Insomma, che regalo... che regalo gli hai fatto? Ah, per Pasqua quest'anno l'ho corto in Egitto! Ah, accidenti! Ah, fortuna che la rompiscatole! E a Natale che fai? Ah, la vado a riprende! Come la vado a riprende? Eh, se è tutto un canale la vado a riprende! Se c'ho voi, anzi, i corsi la lascio lì! Ma no, dai! Che te ridi? No, no, niente, mi sembrava una battuta! Che battuta? No, 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 è la verità! Va bene, allora auguriamo a tutti! Buona casca a tutti, ragazzi! Ecco, e niente, che tocca di... Iscrivetevi a questo canale, se no vedo una cocciata così! Aia, aia, aia! Ha fatto bene, sta zitta, insomma! Buona Pasqua a tutti da Nicola, da Cesare, dai sotto e da tutti i miei amici! Buona Pasqua a tutti!